Numero 7 Cristiano Numero 10 Cuomo Numero 12 Alex Numero 14 Blaze Numero 17 Mario Numero 23 Numero 24 Daniele Adesso iniziamo il video di numero 1 Senti Nelio 3 Coppice Un numero 2 Senti Nelio 4 Coppice Nelio 4 Coppice Nelio 4 Coppice Nelio 4 Coppice Grazie a tutti!